Rai News ha testato la piattaforma Quantum e quello che ne è venuto fuori ci ha lasciati senza fiato. La piattaforma opera automaticamente e sforma profitti ogni giorno. Dacci un'occhiata, ti aiuterà a guadagnare con l'app sul tuo telefono portatile. Il design del programma è semplice, avrai un account personale da attivare. L'importo iniziale è di soli 250 euro dopo l'attivazione.